Buonasera e bentornati a questo canale di morti viventi, praticamente di morto io, del morto, del... Insomma, qual è la situazione? Perché arrivati a questo punto va abbastanza decito chiedersi ma quindi, tendenzialmente, che cosa stiamo facendo qua? Siamo ufficialmente, basta che è andata così? No, o almeno lo è stato provvisoriamente, non so se si nota che non sono neanche più palesemente abituato a parlare al microfono tra l'altro lo sento che sto avendo una voce mezza nasale, mezza di gola, una roba fastidiosa, una roba... Però tendenzialmente sono stati mesi tumultuosi, la risposta accorta è che no, non è andata ufficialmente tutto in malora Ecco, come ho detto in passato, conto di portare avanti questo progetto più che... finché campo Cioè, a costo di fare... fosse veramente che faccio... che monto un video l'anno, non smetto mai più Ma perché è una promessa che mi sono fatto, me la sono fatta da solo, me la canto e me la suono Tendenzialmente è una roba che mi piace e mi piace un botto, mi piace veramente veramente tanto Mi piace registrare le mie cagatine, poi cringiare alle robe che registro mentre me le monto Talvolta ridere, quando non cringio rido, e poi pubblicarle Niente, come dicevo, sono stati dei mesi tumultuosi perché ho avuto tipo 27 cambi di lavoro Non così esagerato, però in linea di massima mi sono fatto... mi sono catafottato via da quello che era il lavoro di una vita Dove sapevo come gestirmi i miei tempi, le mie cose, che quindi mi lasciava più tempo per farmi tutte le mie cosine extra Tra cui i video per buttarmi in fabbrica, mi sono fatto una bella stagione in fabbrica, rinfrescante È stata una bella stagione rivelatoria in fabbrica dove uno scopre tante cose di se stesso Tipo che la vita fa schifo, come se fosse una novità e che non è assolutamente adatto a fare lo stesso tipo di vita che fanno tutti gli altri Però al di là di questo, ho fatto questo, chiamiamolo DLC, ho fatto questo breve DLC in fabbrica Per poi, no perché qua facciamo, proviamo a fare questo, proviamo a fare l'altro Ho provato a organizzare un paio di robe che non sono andate in porto E poi, fast forward, ad una settimana fa, a questo punto, al momento della registrazione Ho aperto un negozio, della stagione, così Cioè, a volte, che giri va a fare uno per fare una roba che poi in realtà sono anni che dico di voler fare E finalmente ho fatto Che tipo di negozio? Non ve lo dico Andate così, mi piace tenere le due robe separate Però tutto questo per dire che, logicamente, fino ad almeno a questo punto io non ho avuto Ma neanche più un momento di tranquillità, di forza, di... Non era proprio più cosa E io ovviamente per fare queste cose qua devo essere tranquillo Tecnicamente, da ora in poi, con tutto che avrò per carità un negozio da seguire Sarò più tranquillo Sarò più tranquillo per seguirmi tutte le mie cosine E... e dovrei riuscire Tanto che sono addirittura arrivato a ipotizzare Ehm... oggi Di... di iniziarmi di LCD Learning Cioè, pensa Non accendo la play e ho il computer per giocare Da... non so... io non so se... sei mesi no Però ho quattro mesi probabilmente tutti Cioè... ho ancora fatto... persona 3 Appena uscito sono riuscito a farmi persona 3 Poi basta Proprio... E' finita... finita di... Figur di se riuscivo a registrare Logicamente... logicamente Nonostante io con la pubblicazione del The Ring sia mega indietro Il The Ring l'ho finito e conto di fare il DLC e conto di registrarlo Ehm... diciamo che... potrebbe quasi essere arrivato il momento Non so se riesco a buttarmici già adesso Subito dopo... subito dopo la registrazione di questo piccolo aggiornamento Potrebbe anche essere che un'oretta In un'oretta... magari un'oretta Così mi svergino Mi butto così... bam! E me ne sbatto di come viene la qualità qui su giù Perché poi io ho un altro problema Problema fondamentale Che se non sono perfettamente allineato con che cazzo sto facendo Perché non si deve sentire E l'audio E non si deve vedere il video E le robe Perché se si vede male Perché se si vede bene Perché se bestemmio la madonna Niente... tendenzialmente Poi non me ne va mai bene una Tipo in questo momento Ho deciso... senti me ne sbatto come viene viene Non accendevo il microfono da un anno Non... non sapevo neanche... Avevo reinstallato Windows Quindi chissà se funziona il programma di registrazione Sto dando le botte al microfono Ci sto probabilmente respirando sopra Si sente il ventilatore sottofondo Me ne sbatto Ho quasi deciso che me ne sbatto Perché siccome Non è che lo sto facendo di lavoro Potrebbe anche essere Che a una certa Senti... Lo registri Come viene viene E bom... Tanto è andata così E sarà andata così Quindi mi sa che potrebbe anche essere Che adesso in un'oretta mi ci butto Guardate l'installato Perché come è uscito Ho detto Minchia lo installo Giusto per il piacere di installarlo E poi è andato così Quindi... niente Ma in sintesi quindi Perché probabilmente Sono partito E' partito il deficit A razzo E non so più Se ho detto che cosa dovevo dire Comunque Sintetizzando Ma quindi Morto Totale No Assolutamente no Ho avuto solo un periodo Un po' intenso Adesso pian piano Si riprende Si spera Sintetizzando